SOS estetista? Sì, eccomi ragazzi! Ciao amici, ciao amiche! Allora, oggi vi volevo annunciare che c'è una vantaggiosissima promozione su un e-commerce che dopo vi dico l'indirizzo della crema alla secrezione dell'umaga, praticamente il 2x1 prezzo stracciato, ringrazio Francesca che è una mia fan e anche una mia cliente perché ha acquistato questa crema e mi ha detto Susanna, ma perché non l'hai detto su YouTube che hai questa vantaggiosissima e allettante promozione, dico vabbè, io non volevo essere invadente però lei mi ha detto insomma di dirvelo e ho dato retta insomma ho fatto questo video per dirvi questo perché magari qualcuno ci può rimanere male chiaramente io ho un certo affetto per voi, siete risparmiate e io so contenta quindi andate nel www.sosestetista.postecomerce.it qui, questo è il carrello dove ci sono in promozione le mie creme e se volete acquistarle insomma stanno qua ripeto www.sosestetista.postecomerce.it ok, io sono sempre qui ok, io sono sempre qui